cazzo stagli 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 buongiorno night city alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30 10 solo a Heywood grazie alle guerre tra bande una vittima per la polizia quindi siete fottuti perché l'NCPD non la farà certo passare liscia e un altro blackout a Santo Domingo i Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica a Westbrook il trauma team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede e a Pacifica Pacifica è sempre Pacifica sul vostro stand è tutto prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni benissimo ragazzi benvenuti su cyberpunk 2077 adesso direi di premere options e continuare e cominciare questa nuovissima serie allora ehi Jumba per migliorare il più possibile cyberpunk 2077 e le sue future espansioni contenuti vorremmo chiederti il permesso di raggiungere a me è arrivando un tempo adesso grazie 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 per il